vediamo come realizzare questo fiorellino avviamo un anello magico dove al suo interno lavoreremo 12 punti bassi quindi lavoro 1 2 3 4 fino a 12 lavorati 12 punti bassi stringo la codina e mi chiudo nel primo punto con un punto bassissimo e da lì inizio il prossimo giro dove lavorerò una catenella per rialzarmi rientro nello stesso punto e lavoro un punto basso poi lavoro 3 catenelle 1,2 e 3 salto un punto di base e nel successivo lavoro un punto basso di nuovo 1,2 e 3 catenelle salto un punto e nel successivo un punto basso procedo in questo modo fino al termine del giro lavoro le ultime 3 catenelle e mi chiudo nel primo punto basso con un punto bassissimo sul nostro lavoro ci ritroveremo 1,2,3,4,5,6,6 archetti di 3 catenelle ora inizio la lavorazione nello spazio di 3 catenelle dove lavorerò un punto bassissimo e dall'inizio il giro lavorando una catenella rientro un punto basso più un punto alto più un mezzo punto alto più 3 punti alti quindi lavoro 1,2 e 3 punti alti poi lavoro una mezza maglia alta e un punto basso questo è il primo petalo arco successivo di nuovo un punto basso una mezza maglia e 3 punti alti quindi 1,2 e 3 punti alti di nuovo una mezza maglia alta e un punto basso procedo in questo modo fino al termine del giro termino il giro nel primo punto basso con un punto bassissimo ora procedo lavorando 5 catenelle quindi 1,2,3,4 e 5 salto il gruppetto delle maglie alte entro nel punto basso al centro qui e lavoro un punto basso di nuovo 1,2,3,4 e 5 salto il gruppetto al centro del punto basso lavoro un punto basso di nuovo 1,2,3,4 e 5 salto il gruppetto al centro del punto basso lavoro un punto basso termino il giro in questo modo terminato il giro lavoro le ultime 5 catenelle e mi chiudo nella prima catenella con un punto bassissimo con un punto bassissimo entro nello spazio di 5 catenelle e da lì inizio il prossimo giro lavorando una catenella più un punto basso poi lavoro una mezza maglia alta 5 maglie alte quindi 1,2,3,4 e 5 poi lavoro una mezza maglia alta e poi lavoro un punto basso questo è il primo petalo ora prossimo archetto lavoro un punto basso una mezza maglia alta 5 maglie alte quindi 1 lavorate le 5 maglie alte e lavoro di nuovo una mezza maglia alta e un punto basso arco successivo di nuovo un punto basso una mezza maglia alta e 5 maglie alte quindi 1 poi lavoro la seconda maglia alta la terza la quarta e la quinta lavorate le 5 maglie alte lavoro una mezza maglia alta e un punto basso termino il giro in questo modo terminato il giro procedo con il penultimo giro dove lavorerò 7 catenelle quindi 1,2,3,4,5,6 e 7 lavorate le 7 catenelle come sempre lavoro un punto basso qui al centro del punto basso quindi salto il petalo di nuovo di nuovo 1,2,3,4,5,6 e 7 salto il petalo al centro qui lavoro un punto basso termino il giro in questo modo lavorando 7 catenelle e un punto basso al centro del punto basso terminato il giro come sempre lavoro un punto basso nello spazio di 7 catenelle una mezza una mezza maglia alta e poi vado a lavorare 7 punti alti quindi 1 2 3 4 5 6 e 7 lavorati 7 punti alti lavoro una mezza maglia e un punto basso quest'operazione verrà lavorata in ogni arco di 7 catenelle quindi entro nel prossimo archetto lavoro un punto basso una mezza maglia alta 7 maglie alte quindi 1 2 3 4 5 6 e 7 punti alti poi lavoro una mezza maglia alta e un punto basso e termino il giro in questo modo 14 catenelle lavorate le 14 catenelle nella prima catenella lavoriamo un punto basso nella successiva lavoriamo una mezza maglia alta nelle prossime 3 maglie lavoreremo 3 punti alti quindi 1 2 2 e 3 punti alti 2 prossime 4 maglie lavoreremo 4 maglie alte e ducche quindi 2 volte il filo sull'uncinetto entro nella catenella e lavoro il primo punto alto doppio poi lavoro il secondo punto alto doppio poi lavoro il terzo punto alto doppio e poi lavoro il quarto punto alto doppio fatto ciò lavoriamo di nuovo 3 punti alti delle prossime 3 catenelle quindi 1 2 e 3 punto successivo lavoro una mezza maglia alta nell'ultimo punto che io lo lavoro nella catenella non lo conto come punta quindi entro qui e lavoro un punto basso 3 catenelle quindi 3 catenelle rientro nello stesso punto lavoro un punto basso e lavoro da questa parte lavorando una mezza maglia alta 3 punti alti quindi 1 2 e 3 nelle prossime 4 maglie lavorerò 4 maglie alte doppie quindi 3 punti alti 2 3 e 4 prossime tre maglie lavoro tre punti arti 2 e 3 prossima maglia lavoro una mezza maglia alta l'ultimo punto lavoro un punto basso entro nel primo punto basso disponibile e mi chiudo con una maglia bassissima fatto ciò procedo lavorando una catenella rientro nello stesso punto lavoro un punto basso punto successivo un punto basso punto successivo lavoro un punto basso una catenella entro nel punto basso qui prendendo solo le due asole e lavoro un punto bassissimo in questo modo abbiamo lavorato un pippiolino e procedo lavorando uno due e tre punti bassi e di nuovo una catenella prendo le due asole così del punto basso e lavoro un punto bassissimo e di nuovo tre punti bassi uno due e tre una catenella prendo le due asole in questo modo terminato il giro questo sarà il risultato finale della nostra foglia che andrà appunto come decorazione vicino al nostro fiorellino 5 6 7 8 8 fiori e andremo ad inserire le foglie in questo punto poi io ho acquistato anche questi piccoli brillantini che andranno posizionati qui al centro e dei fiocchi già pronti ora vado ad assemblare il tutto perché il tutorial del fiore della foglia appunto già l'avete sul profilo e poi ci rivediamo dopo con il risultato finale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.